Dunque, ben ritrovati dopo la pausa, voi siete già tornati prima ma ci vediamo per la prima volta oggi. Oggi approfittiamo del fatto che l'uno di mattina siamo tutti più svegli e ricettivi e cominciamo, diciamo così, una seconda fase del corso cominciando a affrontare gli algoritmi un po' più complessi di quelli che abbiamo visto fino ad ora. Fino alla settimana scorsa di fatto abbiamo fatto un po' di complementi di programmazione, tutte cose utili ma nulla di totalmente nuovo, abbiamo imparato ad usare meglio degli strumenti che conoscevamo o comunque non erano radicalmente diversi da altri che conoscevamo. Invece, in questa seconda fase cominciamo invece a parlare effettivamente di algoritmi, quindi di metodi per risolvere problemi che a un livello intuitivo o semplice o originale o empirico di solito non si vengono risolvere, perché richiedono delle tecniche di programmazione specifiche. E la prima di queste tecniche che cominciamo a vedere oggi, che a parole ce la cambiamo 10 minuti ma poi in realtà ci vorranno due mesi per chiarare, è la cosiddetta ricorsione. La ricorsione è una tecnica molto semplice che però permette di ottenere un livello di programmazione abbastanza più complesso e vedremo che ci permetterà, di fatto sarà indispensabile per poter affrontare o risolvere problemi di una certa complessità, soprattutto problemi di ricerca e di attivizzazione. Ma vediamo di cosa parliamo. Oggi vediamo i primi due punti di questa scaletta, vediamo la definizione e qualche esempio, poi andremo avanti tra domani e la settimana successiva. Allora, cos'è la ricorsione, che cos'è una funzione ricorsiva, alcuni libri in italiano dicono anche recorsiva, esistono entrambe le forme in italiano. Una funzione, qui la definizione non c'è perché il Java è in generale, quindi ho chiamato questo metodo, perché in Java ci sono i metodi ma ho anche il sito proprio duro oppure funzione, dipende poi dal linguaggio di programmazione che usate, qual è la terminologia da adottare. Ma diciamo che un metodo è ricorsivo, lo chiamiamo ricorsivo quando all'interno della definizione del metodo, cioè nel codice che implementa questo metodo, c'è una chiamata al metodo stesso. C'è la funzione che al suo interno richiama a se stesso. E questo crea, no? è ciò che crea la complessità di cui dicevo prima. Ricorda questa immagine che ho preso da un libro di Pascal che aveva scritto, credo, negli anni sessanta, ma già allora rendeva l'idea di che cosa implicasse la ricorsione. Un televisore, che inquadra un televisore, che inquadra un televisore, eccetera eccetera. Tu hai una causa, un meccanismo semplice, hai un televisore e lo inquadri. Il risultato è potenzialmente infinito. Genera una sequenza, un'operazione molto semplice, appunto la telecamera lì, genera una sequenza infinita, sempre più annidata, sempre più profonda, di immagini, in questo caso immagini. Allora, noi vogliamo provare ad applicare questa tecnica alla programmazione. Più in generale, non è detto che un metodo debba chiamare se stesso per essere ricorsivo, o anche un metodo chiami un altro, che ne chiama un terzo, che ne chiama un quarto, che poi alla fine quello ritorna su prima. Sono una sequenza di chiamate che a un certo punto, nel loro sviluppo, tornano a chiamare una funzione che è tra i chiamanti attivi del punto di reclusione corrente. Allora, vabbè, poi chiaramente parliamo di algoritmi ricorsivi quando utilizzano proprio interno funzioni o metodi ricorsivi. Semplicemente per completare le definizioni. La cosa ci serve, sarà la prima domanda, e poi il secondo punto di attenzione che dovremmo affrontare è come fare ad evitare che effettivamente questa inquadratura vada avanti all'infinito. che è bello dal punto di vista filosofico. Ma poi qualunque algoritmo che vada avanti all'infinito non è particolarmente utile. Anzi, non è neppure un algoritmo, perché per ritenire un algoritmo deve essere certo che termini in un tempo finito. Vediamo un esempio classico, il più semplice. No, parliamo dagli esempi semplici che a prima vista possono sembrare inutili, ma ci servono come pretesto per ragionare sui meccanismi. E pensiamo al calcolo del fattoriale, di un numero inter naturale. Allora, il fattoriale è definito così. Dato un numero n maggiore o uguale a 1, qualunque sia, il fattoriale del numero è definito come n moltiplicato il fattoriale di n-1. Quindi il fattoriale di 7 che cos'è? 6 per il fattoriale di 6. Il fattoriale di 7 è 7 moltiplicato il fattoriale di 6. E a sua volta il fattoriale di 6 sarà 6 moltiplicato il fattoriale di 5. con una clausola che quando arrivo allo 0 mi fermo. Io so che il fattoriale di 0, perché questa regola, che noi chiameremo regola di ricorsione, perché ridefinisce una funzione del fattoriale in termini di se stessa. Per sapere quale è il fattoriale di 7 devo calcolare un fattoriale, quello di 6. Questa regola di ricorsione vale per ogni n maggiore o uguale a 1. Quando invece n è 0, questa regola non si applica più perché non potrei prendere un fattoriale di un numero negativo. e ci viene a soccorso la definizione che mi dice che per definizione 0 fattoriale vale 1. Lo prendiamo e lo portiamo a casa. Allora, se volessimo traslare questa definizione così com'è, poi sappiamo tutti ma teniamocelo in tasca, il fatto che basta moltiplicare il numero da 1 a n tra di loro, no? In un semplice ciclo. Ma se volessimo traslare questa definizione in un algoritmo di calcolo, arriveremmo probabilmente a un codice di questo genere, in cui ho una funzione che ho chiamato calcolare fattoriale in modo ricorsivo, prende un intero n, dico i definiti long perché i fattoriali hanno la brutta abitudine di crescere abbastanza rapidamente come valori, e applico la definizione, se n è uguale a 0, ritorno a 1. Il valore del fattoriale è 1. Altrimenti, se n non è uguale a 0, presumo che sia maggiore o uguale a 1, qui mancano un po' di controlli che non sia negativo. Allora che cosa faccio? Calcolo il fattoriale di n-1, sempre usando questa stessa funzione, vedete che qui a un certo punto chiamo la funzione stessa, con un parametro che non è esattamente lo stesso. Io ho ricevuto un valore n, richiamo la funzione con il valore n-1. e una volta che ho questo risultato lo moltiplico per n, quindi ho implementato questa piccola formuletta per comodità di codice, ho calcolato prima il fattoriale e poi moltiplicato per n. Quindi il fattoriale di n-1, che è questo risalto, moltiplicato n, mi dà il risultato, cioè il fattoriale di n, che il fattoriale di n è il valore che deve restituire la funzione. Come funziona? Vediamolo in pratica. Questa è la nostra funzioncina. Io ho provato a fare un piccolo programma, come sempre, mettiamo un PowerPoint qua, un piccolo programma di test, non guardate questo codice, lo guardiamo dopo, che prende i numeri da 1 a 20, e ne stampa il fattoriale, giusto per vedere che dia i valori giusti. Vedete che è istantaneo, dice che il fattoriale di 1 è 1, il fattoriale di 2 è 2, il fattoriale di 3 è 6, il fattoriale di 4 è 24, il fattoriale di 120, il fattoriale di 720, eccetera. Poi, sappiamo tutti a memoria da qui in poi, quindi... E beh, saltano fuori dei bei numeri. Ma, al di là del fatto che il numero sia corretto, vogliamo capire il meccanismo, come funziona. Per cui io proverei, prima di fare questa grossa tabellina, a chiamare risultato uguale fact.recarsi fattorial di 5, che è già lungo. E proviamo a vederlo passo passo. Quello gli è fatto di male. Eh, vuole un long. Eh, vabbè, ti do un long. Non ci piace così? Ah, no, scusate. Lamentare del risultato, non del valore. Che c'era com'è? Adesso non stampo neanche questo risultato, mi serve solamente per entrare nel codice, ok? Quindi proviamo a vederlo in debug, questa cosa. Per capire cosa succede quando una funzione chiama a se stessa. Ecco il metodo di mostrarmi. Ok. Allora, proviamo ad entrare in debug su questa. Quindi sono qui, no? Il programma è arrivato, poi c'è arrivato qua, entro nella funzione. E sono dentro il metodo fattorial ricorsivo col valore di n pari a 5. È quello che ho chiamato. Vado avanti. If n uguale a 0 sarà falso. E quindi entro qua. Qui quello dice, guarda, prima di ritornare dalla chiamata fattoriale ricorsivo con n uguale a 5, faccio, mentre questa chiamata è ancora in sospesa, non ancora finita, non sono ancora arrivato al ritorno di questa funzione, di questo metodo, chiamo un altro metodo, che guarda caso è sempre lui. Con un valore che in questo caso sarà 4 probabilmente, non n-1. Allora, quando io vado avanti di un passo, entrando dentro la funzione, mi ritrovo... Sembra che il cursore sia tornato indietro. No? Perché ero su questa linea qui e è tornato qua. In realtà non è tornato indietro nella funzione precedente. No? Ma ha iniziato un'altra chiamata e iniziando ovviamente dall'inizio. Quindi noi abbiamo, bisogniamoci due, distanze attive del metodo fattoriale. Una con n uguale a 5, che era arrivata a questo punto e sta aspettando che la sua chiamata ritorni. L'altra, fresca fresca, con n uguale a 4, infatti se andiamo a vedere n, qua vale 4. E qui l'elenco delle chiamate mi dice, guarda, il tuo programma è fermo dentro la funzione fattoriale alla linea 11, che è stata chiamata dalla funzione fattoriale alla linea 16, che è stata chiamata dalla funzione main. Quindi qui abbiamo un n uguale a 4, che è diverso dall'n di prima. È un'altra copia di se stesso che è stata attivata. E anche qui faremo la stessa cosa. Andiamo avanti, n uguale a 0, falso. E allora chiamiamo un'altra volta la funzione fattoriale con n meno 1, che questa volta varrà 3. E vedete che apro una nuova funzione, qui vi fa vedere l'elenco delle funzioni su cui sono fermo, sono fermo sulla funzione fattoriale alla linea 11, istanza della chiamata in cui n vale 3, che è stata chiamata dalla fattoriale alla linea 16, che è una copia in cui n valeva 4, che è stata chiamata da una fattoriale alla linea 16, che è una copia in cui n valeva 5. ogni volta che faccio una chiamata, questa chiamata ha una copia sua propria locale, privata, ma non è un metodo, ogni volta che chiamo un metodo lui ha una copia dei propri parametri e delle variabili locali. È una regola generale. Se questo metodo che viene richiamato è di nuovo se stesso, non importa, continua a valere la regola generale, lui ha una copia sua di n, di result, e di tutte le altre variabili che servono. Siamo noi che ci perdiamo dopo un po', no? se ci confondiamo. Il codice è sempre lo stesso, ma è su livelli di annidamento diversi, lo vedete qua, il debug ce lo fa capire, almeno fa di ogni sforzo per farcelo capire. E quindi possiamo andare avanti, richiamo il fattoriale questa volta con n uguale 2, richiamo di nuovo il fattoriale questa volta con n uguale 1, richiamo ancora una volta la funzione fattoriale, perché questa volta si darà qualcosa di diverso, questa volta la funzione è stata chiamata con n uguale 0. Qui noi abbiamo in sospeso parecchi debiti, no? Nel senso che questa chiamata deve rispondere a questa, la quale dovrà restituire un risultato a quest'altra, che prima o poi dovrà restituire all'altra, eccetera, eccetera. Per ora abbiamo aperto tanti debiti, perché nessuno sapeva rispondere, perché ciascuna in chiamata diceva, ok, io ti so dire il fattoriale di 3, però aspetta un attimo che prima devo calcolare il fattoriale di 2. A questo punto, se vado avanti, if n uguale 0 finalmente dovrebbe essere vero, e quindi questa chiamata, questa qui, quella con n uguale 0, finalmente potrà ritornare il suo valore, il suo risultato, 0 fattoriale uguale 1. Ecco, scomparsa una di queste, è ritornata la più annidata, la più interna delle funzioni chiamate, e l'esecuzione ritorna dove? Ritorna dove l'avevamo lasciata, alla riga 16, no? della chiamata con n uguale 1. E questa volta so che il results vale 1. n vale 1, e quindi avremo un 1, bellissimo 1 per 1, che costituisce il nuovo risultato. Facciamo di fare questo calcolo difficilissimo, e con 1 siamo pronti a dire che il fattoriale di 1, di n uguale 1, è 1. Siamo pronti a dirlo a chi? Beh, alla funzione fattoriale con n uguale 2, che sta aspettando. Quindi andiamo avanti, ecco di nuovo, sono andato avanti di un passo, sembra che il cursore sia tornato indietro, in realtà non è tornato indietro, ho chiuso la funzione corrente, è tornato quella precedente, che era ferma due righe prima. A questo punto è n uguale 2, il risultato appena ritornato vale 1, e quindi posso moltiplicare 2 per 1, e ottenere come risultato nuovo 2. Quindi dirò che il fattoriale di 2 è 2, e lo dico a chi? Alla funzione madre, che voleva calcolare il fattoriale di 3. e quindi a questo punto io so che il risultato vale 2, cioè il fattoriale di 2, che è il risultato delle tre chiamate ricorsive interne, che ormai si sono esaurite, hanno finito. Vedete che questa è una fisarmonica qua. prima andavamo avanti e aggiungevamo chiamate su chiamate su chiamate in sospeso, poi finalmente quando qualcuno ha saputo dare un risultato, siamo tornati indietro a chiudere tutte le porte aperte, chiudere tutti i debiti sull'in sospeso. e quindi qua il fattoriale di 3 sarà 6, torno su di nuovo di una funzione, sono ritornato nel modo n uguale a 4, il risultato sottostante era 6, quindi 6 per 4 farà 24, e sto per dire che il fattoriale di 4 è 24. Torno finalmente alla mia prima chiamata, con n uguale a 5, il risultato sottostante valeva 24, e quindi sono pronto a dire che il fattoriale di 5 vale 120. Se avete visto Inception l'anno scorso, come film, è la stessa cosa. E quindi torno al risultato. In questo caso il main non se ne fa nulla di questo risultato, e finisce lì. Allora l'esecuzione è complicata. Capire questo meccanismo. Questo è quello del fattoriale, l'esempio più semplice che si possa fare sulla ricorsione. Il bello è che il codice è molto pulito, è molto vicino alle definizioni. È chiaro che mai più ci saranno aspettati che per calcolare 120 dovessimo chiamare anni date 6 funzioni una dentro l'altra, le quali facevano a ciascuna un lavoro, permettetemi, molto banale, cretino quasi. Ritorna uno oppure fai una modificazione. Ecco questa è la forza della ricorsione. Ripetendo su scale diverse operazioni semplici, posso ottenere un risultato che è molto più complicato. Allora proviamo a pensare come in generale si può applicare questo metodo, questa tecnica. Pensate che i primi linguaggi di programmazione vietavano all'uso della ricorsione. Non era proprio possibile dare errore. Poi per fortuna si è capito che serviva. Perché? Per due motivi. Il principale è che alcuni problemi, quando li descriviamo, si prestano naturalmente ad essere modellati in modo ricorsivo. Cioè proprio quando ti spiegano una cosa, la soluzione più logica, più naturale, più diretta è implementarlo in modo ricorsivo. Quello del fattoriale è un portificio. Lo usiamo come esempio perché è facile da vedere, da capire, non ha tante variabili in gioco. Poi vedremo qualche esempio più avanti in cui proveremo a fare, vi chiederò di provare a immaginare, di risolvere magari problemi molto semplici, ma provare a farli senza ricorsione e vedremo che sarebbe invece un grande mal di capo. Quindi ci sono dei problemi che sono, diciamo così, si prestano per loro natura a essere trattati con questo metodo. E il metodo, diciamo, dell'approccio generale è cercare di prendere un problema, noi abbiamo visto il problema del calcolo fattoriale, pensiamo a quello più ampio, e cercare di dividerlo in tanti sottoproblemi, più piccoli dell'originale, ma possibilmente dello stesso tipo dell'originale. qui immaginiamo di dover cercare qualcosa in quest'aula, allora io potrei definire cerca nell'aula come la combinazione di due sottoproblemi, sempre cerca, sempre lo stesso sottoproblema, su un insieme di dati, spazi, più piccolo. E chiaramente cerca in questa metà, a sua volta può essere diviso in cerca nelle quattro lighe anteriori, rispetto a cerca nelle quattro lighe posteriori. E quindi lo stesso sottoproblema, la sua volta è suddiviso in due sottoproblemi più piccoli dell'originale. e via via prendo i problemi e li affetto in problemi più piccoli, dividendoli in due, in quattro, in otto, in diciassette, dipende chiaramente dal problema che ho, e li riduco in dimensioni, fino a quando arriverà a un problema talmente piccolo che posso risolvere semplicemente guardandolo in faccia. quando c'è un posto solo, se devo cercare, non so cosa stavo cercando, non ho detto, la matita, vedo se c'è o no, avendo un posto solo di cui guardare. E quindi ho il singolo problema, lo riduco fino a quando il singolo problema è talmente banale che lo risolvo così, al volo, come prima. Quanto è il fattore di zero? Ma è uno, lo dice la definizione, non devo fare nessun calco. E poi ho la fase all'indietro in cui vado a ricombinare le informazioni che ho ottenuto dal sottoproblema sinistra e dal sottoproblema destra, le ricombino dicendo, ok, di qua l'ho trovato sì, no, di qua l'ho trovato sì, no. Allora, a livello generale, nel problema più alto, nel problema superiore, qual è il risultato, qual è la risposta? Mi do una risposta combinando le risposte parziali che i vari sottoproblemi mi hanno dato. Ecco, il caso del fattoriale era particolare perché il sottoproblema ne aveva uno solo. Ogni chiamata attivava un sottoproblema su se stesso. Potrebbe esserci dei casi in cui, e li vedremo, si attivano più sottoproblemi a partire da un problema di partenza. Ma la, diciamo così, la tattica generale è che il sottoproblema dobbiamo cercare di definirlo il più possibile identico a quello di partenza. Il più possibile decrescente in termini di dimensioni, perché io voglio che i sottoproblemi siano via via più piccoli perché a un certo punto voglio problemi banali, voglio problemi ridicoli, voglio problemi piccolissimi, che a questo punto risolverò senza ricorsione. Ecco, questa è una, se vogliamo, l'applicazione dell'informatica del principio divide-timpera, no? Che già Dio Cesare aveva conosciuto, aveva anche diventato, in termini, diciamo così, di conquista dei territori, dividili, conquistali uno per uno, poi rimettili insieme e accorpali all'impero. Era una tattica di battaglia. A per lo meno è attribuita Dio Cesare questa frase, anche se sembra che sia più antica di lui. In informatica, quando parliamo di approccio divide-timpera, o divide and conquer, se uno lo vede all'inglese, significa così. Un approccio alla soluzione in cui la tecnica produttiva è prendi un problema, spezzati nei problemi più piccoli e fai ricorsione successivamente nei problemi più piccoli. Quando risolta il problema piccolo, ricombinali. Quindi, a livello di pseudo codice, lo vedremo così. Cioè, se io, prima riga, ho un problema da risolvere, avrò un metodo risolvi, problema, che mi dà una soluzione. Questo è, diciamo così, il main che vuole fare una cosa. Se io voglio risolvere il problema adottando il metodo divide-timpera, quindi un metodo ricorsivo, cosa faccio? Prendo il problema e lo divido in tanti sottoproblemi. Io ho messo una lista, tanto per capirci, non è giallo questa roba, non è proprio forza. Come li divido? Eh, vabbè, metà del mal di testa sta qua. Come fare a dividere in modo furio? Dopodiché prendo i sottoproblemi uno a uno e su ciascuno di questi sottoproblemi calcolo la sottosoluzione, iesima, data dalla soluzione del sottoproblema iesima. Queste sottosoluzioni vengono calcolate, diciamo così, indipendentemente l'una dall'altra, separatamente per l'altra. Una, due, tre, quattro, cinque, calco tutte le sottosoluzioni. Quando ho finito di analizzare tutti i sottoproblemi, devo prendere tutte le sottosoluzioni e ricombinarle insieme. Perché in realtà io devo rispondere alla domanda qual è la soluzione per i problemi originali? E la ottengo combinando insieme le informazioni che arrivano dai sottoproblemi che ho risolto. Ovviamente questa è la chiamata ricorsiva, per cui quando cercherò di risolvere il sottoproblema iesimo, ricomincerò da capo tutta la procedura. quel famoso sottoproblema iesimo per un momento diventa il problema originale, diventa il problema da affrontare, quindi a sua volta viene affettato il sottoproblemi i quali vengono risolti e poi ricombinati. Questa divisione è ovviamente chiave, dividere in modo furbo. Diamo dei nomi alle variabili. Ipotizziamo che il sottoproblemo originario venga diviso in a a sottoproblemi e ciascuno di questi sottoproblemi sia b volte più piccolo del problema iniziale. Ok, quindi nell'ipotesi del cerchio e dell'aula divido metà avrei due sottoproblemi ciascuno due volte più piccolo di quello iniziale perché è la metà. Nel caso del fattoriale avrei a uguale 1, c'è un sottoproblema con b uguale 1 virgola pochettino perché il sottoproblema è di nuovo lo stesso su un numero un pochino più piccolo ma qui non sto né diventando né nulla. E' per quello che le chiamate, diciamo così, si sbrodolano parecchio perché ogni volta diminuisco di poco la dimensione del problema nelle gestioni fattoriali. poi questi a e b teniamo in mente che tra un secondo ci ritornano. E questo è l'approccio generale poi a seconda di quale sia il problema che dobbiamo risolvere si articola. Questo divide che qua sembra una chiamata magari è complesso anche spesso è complesso. Occhio però che così se adottassimo esattamente questo metodo non finiremmo mai, sarebbe infinito perché per piccolo che sia il problema chiamerei divide che magari mi restituisce il problema stesso perché è indivisibile, è già piccolo ma questo oggi andrebbe avanti all'infinito. Io a un certo punto devo avere, devo arrivare a un punto in cui il sottoproblema è così piccolo che o si risolve da solo o la sua soluzione è evidente è un elemento solo, devo chiedere se è pari o dispari, se è maggiore, se è uguale, se ha un certo valore oppure è sufficientemente piccolo che non mi conviene più mettere in piedi il meccanismo del divide di impera e semplicemente uso altri metodi, ad esempio un metodo iterativo se arrivo a quattro elementi li guardo uno per uno no? immaginate di mettere in ordine un masso di carte dovete mettere in ordine allora magari fate dei sottomazzetti per ordinarli separatamente per poi ricombinarli tra di loro quello che a livello informatico è facile da fare a livello manuale si confonde ma traiamo per un attimo dal problema pratico ma poi quando hai un sottomazzetto di quattro carte non sai con gli stupiti la dividono in due e due poi ordiniamo separatamente le ho quattro, le ho in mano e le ho composto semplicemente in modo con un algoritmo diremmo qua magari iterativo, non più ricorsivo ok, quindi arriva una certa dimensione del problema che o il problema è veramente minimo, non è più divisibile e allora probabilmente si presta già alla propria soluzione oppure il problema è sufficientemente piccolo che non mi conviene fare ulteriormente ricorsione guardiamola qua, il nostro fattoriale ma chi me lo fa fare stop noi ci abbiamo messo tre, quattro chiamate ricorsive per calcolare il fattoriale di uno o di due vabbè, allora potremmo dire qui se è uguale a zero e torna a uno ma anche se è uguale a uno o se è uguale a due la definizione matematica mi dice che devo arrivare fino a zero ma l'implementazione magari non magari non vale la pena di arrivare fino a zero per zero fattoriale uno e poi moltiplico uno per uno per ottenere uno fattoriale ma potrei fermarmi anche prima mettere qua dei delle trappole, no? dei punti in cui termino la ricorsione perché ho riconosciuto un problema che è facile da risolvere senza necessariamente andare fino alla fine ma in ogni caso quando arrivo alla fine devo riuscire a fermarmi se poi riesco a fermarmi anche prima magari mi conviene, forse, dipende bisogna valutarlo caso per caso quindi per essere sicuri che la ricorsione non mi porti a un'esecuzione infinita un algoritmo infinito devo essere sempre sicuro di due cose uno che ho valutato qual è la condizione di determinazione cioè devo aver trovato un caso limite verso cui tutti i sottoproblemi convergono prima o poi e quel caso lo risolvo con un modo che non sia la ricorsione quindi la ricorsione deve terminare sulla risoluzione nota con metodi diversi di un problema sufficientemente piccolo problema a cui sono sicuro di arrivare come una serie di divisioni ulteriori successive e poi in queste divisioni successive devo fare attenzione che il metodo che uso per fare divisioni effettivamente riduca la dimensione del problema e non capiti mai che magari nella divisione o una divisione antiché metà in metà zero da una parte e tutti dall'altra se la faccio male la divisione potrei fare così allora la parte zero da una parte la risolvo in un attimo la parte tutti dall'altra mi si ripresenta un livello di ricorsione inferiore lo stesso identico problema di prima non un problema dello stesso tipo ma più piccolo lo stesso identico problema di prima e allora sono morto perché se è successo la prima volta visto che il codice è lo stesso succederà anche la seconda la terza la quarta la dodici milionesima volta in cui ripasso a me stesso chiedo a me stesso ricorsivamente di risolvere un certo problema che in realtà è identico al problema di partenza da lì non esco mai occhio che è più facile di quanto non sembri cadere in questo secondo problema quindi la modifica l'integrazione di quanto avevamo fatto prima della procedura solve deve tenere presente di uno o più test iniziali dicendo beh se il problema a cui sono arrivato è banale allora qui ho inventato una funzione risolvi banale risolvilo in modo magari non è banale ma semplice ma diverso non ricorsivo altrimenti tutta questa parte gialla su sfondo giallo è esattamente il codice di prima quindi la funzione ricorsiva la prima cosa che fa va a vedere il problema e dice questo problema voglio risolverti in maniera tradizionale perché sei piccolo oppure ti presti e sei risolto in modo tradizionale non ricorsivo oppure sei ancora troppo grosso e quindi ti affetto e ne riparliamo ai livelli successivi questo è lo schema generale che applicheremo sempre ecco adesso proviamo a ragionare questo visto che è lo schema generale ragionare sulla complessità di questo schema abbiamo imparato la settimana scorsa, dieci giorni fa a fare qualche calcolo empirico non formale quindi in questo momento i matematici si escono dall'aula non formale di valutazione di complessità allora è bello è elegante no? è bello da raccontare sta roba ma serve solo per far venire mal di testa o effettivamente può essere efficiente? eh, vediamo allora come possiamo impostare un'analisi di complessità di questa parte? allora diamo un po' di definizioni allora A e B le abbiamo già visti prima no? A è il numero di fette che faccio a un determinato livello di situazione e B è il fattore per cui le fette dei livelli inferiori siano più piccole del livello superiore oh, non è detto che coincidano, eh, questi due signori io potrei dividere un problema in quattro sottoproblemi che ciascuno sia non quattro ma solo due o tre volte più piccolo di quell'originale dipende dai casi l'esempio dell'aula divisa metà divide in due problemi ciascuno di quali è la metà dell'altro allora in questo caso sia A che B vale 2 ma non è detto che A sia uguale a B sempre anzi, spesso non lo è perché magari devo tenere conto un po' di sovrapposizione tra i sottoproblemi non riesco proprio a tagliarli in modo netto a volte e quindi B è un pochino più piccolo di A poi avevamo diversi passi avevamo solve trivia, abbiamo divide, abbiamo di nuovo solve, abbiamo combine e poi abbiamo un ciclo form allora le regole cosa ci diceva, no, di analisi di complessità? ci diceva, vai, per ogni funzione che non sia elementare avrà una sua complessità in un'esecuzione sequenziale le complessità si sommano e ovviamente poi premarrà quella che ha il termine maggiore, per conderante, no grande in un ciclo si moltiplica la complessità del contenuto del ciclo per il numero di interazioni svolte queste sono le regolette pratiche e allora diamo dei nomi tdn, la complessità di solve tdn, è la funzione che vogliamo, è la nostra incognita qual è la complessità di un algoritmo ricorsivo? chiamiamola t, poi vediamo, se riusciamo a risolvere poi abbiamo divide e combine che non so come sono fatte, dipenderà dal problema ma vorremmo dire che hanno una complessità adatta da dnc divide e combine poi solve trivial solve trivial che è qua dovrei dire, ma qual è la complessità di solve trivial? ma se lo chiamo trivial è perché la sua complessità faccio in modo che sia, diciamo, immediatamente risolta chiamiamola o d1, td1 una costante poi magari non è td1 ma è td4 non ricordate le quattro carte ma sempre 1, eh, in termini di complessità cioè lavora sul sottoproblemi di dimensione limitata limitata a una costante in un certo senso più grosso di così non si prende e quindi ci metterà sempre allo stesso tempo il tempo costante indipendente dalla dimensione del problema originario ecco n, non mi ricordo di scriverlo qua n è la dimensione del problema originario o ricorsivamente di ogni certo problema allora, abbiamo definito queste cose quindi, sono tutte incognite tranne solve trivial diciamo che se tu sei banale allora lavora il tempo costante e che non vuol dire che si risolve in modo banale magari è complicato da scrivere ma dal punto di vista della complessità è veloce allora mettiamo a fianco solve problem a una complessità tdn poi cosa faccio? faccio un od1 che è solve trivial oppure pago un ddn per dividere il problema e poi a volte perché l'ho diviso in a sotto problemi a volte chiamo solve quindi che avrò di nuovo complessità t ma su un problema che non è n non è più n ma n diviso b perché b volte più piccolo e poi alla fine dopo che avrò fatto tutte queste cose a volte la chiamata solve su un problema n diviso b quindi chiamo combine che chiaramente ci metterà un tempo c per ottenerti ho questa analisi molto semplificata perché nessuno mi dice che a e b siano uguali sempre nessuno mi dice che i sottoproblemi che ottengo siano tutti della stessa dimensione magari un terzo, due terzi non è metà metà se riesco a tagliare metà forse faccio meglio convergo più in fretta a un problema piccolo ma se non ci riesco perché il problema non si presta così la 1 a 8 ha fatto i tre bronconi che sono diversi sono due piccoli allati uno grande al centro e non posso dividere esattamente metà però concediamoci di fare questa semplificazione parlando di a e b come se fossero costanti e dei sottoproblemi come se fossero uguali tutti n diviso b allora mettiamo insieme questa cosa c'è scritto che tdn è z di 1 se n minore di una certa dimensione c e qui sono piccato dentro una costanta all'ultimo momento per dire la dimensione sotto la quale considero triviale considero banale il problema altrimenti tdn sarà ddn quindi faccio il divide a volte rifaccio solve su un problema n meno b di dimensione n diviso b b volte più piccolo e poi rifaccio il combine quindi tdn uguale tdn più a tdn diviso b più cdn queste sembrano le cose che mi facevano fare al primo anno in cui c'era una equazione della ricorrenza in cui avevi una cessione definita di termini di se stessa e dovevi sbrogliarla per riuscire a calcolare quanto valeva e questa non è per nulla banale da risolvere non sono capace non sono capace sicuramente nel caso generale nel caso generale non si risolve bisogna vedere qual è la forma specifica di d e c e poi del rapporto a su b ma se ci mettiamo in un caso particolare in cui qui c'è scritto tdn più cdn uguale a tdn dici vabbè hai fatto un'ipotesi perché sul libro hai trovato che così si risolveva ma sì ma vediamo qual è il significato di quell'ipotesi ddn cdn uguale a tdn vuol dire che il tempo che ci metto a dividere e poi rimettere insieme è proporzionale al numero di elementi cioè dividere e ricombinare non deve essere una cosa pesante quadratica esponenziale non deve avere una complessità mostruola perché se no spendo più tempo a dividere e ricombinare che non il vantaggio di cui potrebbe dare la riposizione se l'operazione di divisione e ricombinazione vediamo che più pesante di un tdn c'è un loop che va a vedergli elementi uno per uno li posso guardare in faccia uno per uno c'è scritto tdn non li posso confrontare tutti a coppia sarebbe già un n quadro magari riesco a fare qualcosa ancora di meglio quindi potrebbe anche essere uno grande dn magari non devo neppure vederli tutti vediamo un attimo un esempio qui basta guardarne uno e non tutti per poter diventare quindi ma questo risultato qui va da dire quindi se dividere e ricombinare significa di fatto guardare gli elementi magari a riguardo il rosso li metto di qua e il nero li metto di là quindi prendo in mano uno a uno e poi dopo il risultato lo ricombino con un semplice ciclo lineare allora in quel caso in quel caso specifico oltre al fatto che ovviamente a di rubì deve essere minore di uno cioè ogni volta il problema seduce e non aumenta ottengo che la complessità dell'algoritmo ricorsivo è uno strano n log n che è bello grazie è una formula ci accorgeremo che ci sono molti problemi n log n non è diciamo vuol dire è una complessità che è inferiore ricordate i grafici che avete visto l'altra volta è inferiore all'n quad si è più che lineare ma non troppo più che lineare n moltiplicato non più per n ma solamente per il logaritmo di n quindi quando n cresce n log n è appena più che lineare no ci sono algoritmi che ci sono problemi che non si possono risolvere in tempo lineare proprio per la loro natura nel senso il classico problema di mettere in ordine a fare il sorting a mettere in ordine un certo numero di elementi non si può risolvere in modo lineare il tempo lineare scusate se non conosco a priori quali sono i valori degli elementi e se provate a guardare qualche algoritmo di ordinamento noi ne faremo qualche cento domani quelli normali quelli iterativi hanno una capacità che sono n quad devo perlomeno confrontare tutti con tutti ciascuno con tutti gli altri per sapere se sono ordinati o per sapere in che ordine metto n log n è di meno questo ci dice che a volte queste ipotesi che non sempre sono verificate per una certa classe di problemi sì una soluzione ricorsiva n log n può essere più efficiente che una soluzione iterativa che quando non è un banale odn cioè guarda gli elementi uno per uno come minimo n quad se vi imposto dei cicli, dei loop se non un ciclo va bene con odn se ho già due cicli nei dati fa n quad in termini di complessità quindi la ricorsione non solo può essere un modo più elegante per impostare un problema o più vicino alla formazione del problema ma può essere anche un modo più efficiente che forse ci interessa anche di più noi andiamo a cercare due tipi di efficienza l'efficienza del programma cioè il programma vogliamo che sia veloce sia in grado di trattare problemi di dimensione grande ma c'è anche un'altra efficienza che è l'efficienza di sviluppo cioè quanto tempo ci metto a verificare un algoritmo è proprio un problema nostro questo il costo se vogliamo e in alcuni casi appunto la formazione ricorsiva con il fatto che è molto compatta magari è complessa da capire però poi alla fine sono poche righe lì si condensa molta conoscenza molto mal di testa ma poi alla fine rischia di essere più compatta e di dover gestire più facilmente i casi particolari rispetto a soluzioni iterative ma la nostra speranza è questa non sempre, non ho detto, non c'è scritto che gli algoritmi ricorsivi hanno complicità e dell'oggetto ce l'hanno solamente sotto quali porti lì è tutto da verificare se quel problema lo sia dipende dai casi vedremo tra un secondo un caso che è esattamente contrario però questo risultato, diciamo così teorico, ci dà una speranza la speranza di una soluzione ricorsiva fatta bene sia più efficiente di una soluzione non ricorsiva ok, vediamo qualche esempio tanto per po' familiarizzarci con questa bestia è l'esempio l'altro, il secondo esempio classico della ricorsione ma qui si lavora con i numeri tanto perché è semplice è il calcolo dei numeri di fibonacci che uno di solito non li ha mai sentiti meno quando non fa gli artisti di questo genere un numero di fibonacci fibonacci ha inventato una serie di numeri che si ritrovano in una quantità impressionante di luoghi in natura tipo i petali dei fiori o lo sviluppo della chiostra della della lumachina e cose di questo genere molti fenomeni naturali sono regolati da leggi di crescita che seguono questi numeri qua è uno dei misteri della natura c'è anche qualcosa di riproduzione dei conigli se non sbaglio cosa dice? beh, è una serie numerica i cui primi due elementi sono 0 e 1 il primo elemento quello di posizione 0 vale 0 quello di posizione 1 vale 1 e poi si prosegue definendo l'elemento n più unesimo successivo come somma dell'elemento precedente e di quello ancora prima cioè i fibonacci di 2 sarà i fibonacci di 1 più i fibonacci di 0 cioè 1 di 3 2 i fibonacci di 3 è uguale a i fibonacci di 2 l'abbiamo appena calcolato più i fibonacci di 1 che vale 1 2 più 1 3 quello successivo 2 più 3 5 quello successivo 3 più 5 8 poi abbiamo 8 più 5 13 13 più 8 21 e abbiamo capito allora anche qua la definizione è scritta in modo ricorsivo sul libro di matematica lo vedete ma questo qua è ricorsivo perché mi dice che il valore di un certo n si calcola richiamando di nuovo la funzione su valori di n più piccoli in questo caso a uguale 2 perché ho 2 sotto problemi e allora proviamo a scriverlo vediamolo vediamo direttamente sul codice qua così lo no? sono poche righe dice ok il numero di fibonacci con parametro n quanto vale? è la definizione se n uguale a 0 vale 0 se n uguale a 1 vale 1 se no che faccio? ebbè calcolo il numero di fibonacci n-1 calcolo quello n-2 cioè quello prima e 2 prima e li soffro fine tra dico e quindi qui in un main ho stampato i primi 20 viene fuori una cosa del genere 0 1 1 2 3 5 8 13 21 e poi lui è andato avanti più veloci di me a calcolare gli altri e quindi posso anche sbizzarrirmi se volessi in una giornata di pioggia calcolare i numeri di fibonacci fino a 100 guardate cosa succede però non è più così veloce e cosa faccio? alla faccia dell'efficiente e ogni volta mi sta facendo aspettare sempre di più qualcuno vuole di contare i secondi? arriveremo a 100 quant'è neanche 47 è arrivato? è arrivato e adesso quando dovremmo aspettare per il 48? qualcuno azzarda? rispetto al tempo che abbiamo atteso per il 47 quanto dovremmo attendere per il 48? la prima cosa che viene in mente è quella giusta il 28 adesso cerchiamo di capire perché ma questo è un caso un po' estremo estremo nel senso negativo in cui diceva che bella soluzione hai fatto un tre righe ricorsivo è orrendo stiamo facendo scusate stiamo facendo 48 più 47 perché ci metto in questo tempo? perché l'ho fatto male o perlomeno non era un problema adatto proviamo a darlo qua e non in debug mentre tanto lui calco allora immaginiamo di calcolare fibonacci di 5 il nostro algoritmo divide in due 5 uguale fibonacci di 4 più fibonacci di 3 giusto? ma questo punto si dimentica per un attimo di fibonacci di 5 e entra in fibonacci di 3 e fa tutte le ricorsioni la sua volta il fibonacci di 3 sarà diviso in fibonacci di 1 e di 2 fibonacci di 1 è trivial è un problema banale perché so già che vale 1 fibonacci di 2 a sua volta viene diviso e fin qua tutto tranquillo vado di là fibonacci di 4 come sarà calcolato? come fibonacci di 3 più 2 più fibonacci di 2 ma fibonacci di 3 a sua volta rifà quello se fibonacci di 3 l'ha appena calcolato ma ripostivamente io qua non lo so che l'ho appena calcolato e quindi mi si chiede la funzione quanto fa fibonacci di 3? aspetta un attimo farà fibonacci di 1 più fibonacci di 2 quindi ogni volta che aggiungo un numero di fatto sto prendendo tutto il calcolo che ho fatto per il numero precedente più tutto il calcolo che ho fatto per il numero precedente e gli sommo questo calcolo qua è ripetuto due volte questa è roba nuova questa somma qui è roba nuova questa somma qui è roba nuova ma tutto ciò che sta sotto il fib di 3 e il fib di 3 di qua è uguale e quindi questo mi porta di fatto un numero di calcoli, di chiamate della funzione che è esponenziale non è esattamente 2 alla n ma dell'ordine di 2 alla n no? è uno grande di 2 alla n immaginate, per capirlo immaginate di calcolare fib di 6 fib di 6 sarebbe uguale a fib di 5 più fib di 4 cioè questa parte qua di destra quindi il numero di nodi in fib di 6 il numero di chiamate, il numero di rettangoli in fib di 6 sarebbe uguale al numero di rettangoli in fib di 5 più quello di fib di 4 ma che sono quasi la metà quindi è 1,5 volte più grande la spanne, eh? fib di 6 avrebbe un numero di chiamate circa una volta e mezza rispetto a quelle di 12 e quindi è un 1,5 alla n con molte spanne ma il tipo di crescita è esponenziale ogni volta che salgo di un livello non dico che duplico il lavoro perché c'è una parte di lavoro nuova ma c'è una componente di duplicazione questo è un caso in cui i miei famosi a e b a vale 2 ma b non è maggiore di 2 il sottoproblema b è praticamente lo stesso sottoproblema di partenza meno 1, quindi sarà b uguale nel caso del 5 e b è uguale a 5 terzi e 5 quarti effettivamente nei due ratti è un problema che è un pochino più piccolo ma non è la metà quindi io divido in due problemi ciascuno dei quali non è la metà di quello originario è più grosso e allora alla fine ho peggiorato fatto del male questo nel frattempo sta andando avanti è arrivato già a 50 però capite che è un comportamento esponenziale finché non lo vedono i gradi dove c'è la retta ma quando la comincia la retta la capella e dici si ma dai finiamo questo non finisce dici tu ma neanche entro oggi non solo entro la fine dell'oro perché ogni volta raddoppia arrivare a 100 siamo solo a 50 arrivare a 51 ci metterà tutto il tempo che ci ha messo ad arrivare fino a 50 guarda caso questi tempi sono anche loro nel seguente di Fibonacci perché quello prima è uguale quello vecchio tutto quello che ha fatto finora più altrettanto vabbè fermiamolo no? abbiamo pietà allora questo è un esempio di un problema in cui non sia troppo furbo applicare il metodo divide o meglio teoricamente si può applicare il metodo divide tinter praticamente non è efficiente perché il metodo cosa c'è sbagliato? il divide è sbagliato abbiamo diviso in modo poco efficiente è giusto, è formalmente giusto ma non abbiamo sfruttato l'efficienza che ci poteva dare se qualcuno vuole cimentarsi si potrebbe provare a trovare il buono di entrambi i mondi dicendo ma come diciamo così il recito suggerito nessuno vieterebbe alla classe Fibonacci una volta che ha calcolato un valore di ricordarselo poi questo è nelle forme più semplici è una tecnica che viene chiamata caching quindi c'è ottengo una tabella con i risultati più recenti di operazione che ho fatto nelle forme più complesse si chiama programmazione dinamica forse non avete sentito parlare di cerco operativo però mi diceva se il problema è che per calcolare Fibd3 devo ricalcolare cose che avevo già visto ma una volta che ho calcolato Fibd3 prima di ritornare al chiamante me lo salvo faccio una più piccola map risultati che ho già calcolato ma se voi provate si complica un po' il codice perché questa mappa deve essere statica deve essere condivisa tra tutte le chiamate se ci provate vedete che riuscite a recuperare tutte le prestazioni che volete diventa lineare o anche meno ma scritto così non è efficiente l'ho fermato il poveretto ecco vediamo un altro esempio invece furbo quindi questo ci ha servito per dire sì ci sono problemi che si possono prestare dal punto di vista dell'eleganza formale del codice ma occhio che non è detto che siano automaticamente presenti l'altro problema è classico anche qui stiamo usando problemi semplici è la cosiddetta ricerca dicotomica o ricerca binaria cioè supponiamo di avere un vettore di numeri interi facciamola semplice semplice e voler sapere se all'interno di questo vettore c'è un elemento x il cui valore è x sarebbe il metodo contains delle list in particolare pensatelo su un array list perché nell'array list gli elementi sono voltati in un vettore ma con una differenza sappiamo che il vettore è ordinato questa è la parola chiave l'array list non è ordinata non mantiene il dalimodo è ordinata per ordine di inserimento non per valore e quindi abbiamo visto che il metodo contains dell'array list ha una complessità odn parte dall'inizio e va a vedere se c'è quando lo trova è contenta se non lo trova deve arrivare fino in fondo odn non si scappa ma se il vettore è ordinato quindi ho un'informazione in più che il release.contents non può avere posso fare di meglio? beh l'idea potrebbe essere se il vettore è ordinato dal più piccolo al più grande io guardo a metà e mi chiedo che valore c'è nel mezzo? questo valore che c'è nel mezzo è più grande o più piccolo del numero x che sto cercando? allora se il valore che c'è nel mezzo è più grande di x vuol dire che x starà di sicuro nella prima metà del vettore il vettore è ordinato in modo crescente a metà c'è un numero che è già più grande di quello che volevo io beh da metà in avanti di sicuro ci sono numeri ancora più grandi e non mi interessa quello che sto cercando se c'è perché non so se c'è è di sicuro nella metà di sinistra allora quest'idea la posso no? realizzare con una ricorsione dicendo ok io ho un vettore ho un valore trovo il punto di mezzo che poi nel caso in cui gli elementi siano pari ma ne prendo uno vicino in questo caso l'elemento un po' più chiaro non è esattamente al centro è un po' spostato a sinistra perché ci sono otto elementi quindi non c'è un po' e mi chiedo il valore che c'è lì in mezzo quel 6 rispetto al valore che sto cercando cioè il 4 com'è? è più grande allora tutti gli elementi che stanno alla destra di quel 6 non mi interessano adesso noi purtroppo non ce la facciamo abbiamo gli occhi vediamo che il 4 è lì no? quindi risulta difficile ignorarlo ma proviamoci immaginate il vettore in cui non vedete nulla ma avete visto solamente il 6 cioè per fare il passo di divisione il divide non abbiamo neanche guardato tutti i numeri abbiamo guardato solo quello centrale abbiamo contato quella y col 6 e sulla parte di quello abbiamo potuto dividere quindi il passo di divide in questo caso non è neanche o di n è o di 1 ho confrontato un elemento solo ho diviso il vettore in 2 quindi ogni parte del vettore è metà di quello iniziale quindi il nostro b vale 2 e il numero di chiamate ricorsibili sotto problemi di canalizzo questo è 1 perché delle due metà una la guardo l'altra non vado a fare ricorsione nella parte di destra dove sono sicuro che l'elemento non c'è ok? quindi abbiamo un esempio in cui divide è o di 1 vedremo che anche combine è o di 1 a vale 1 cioè fate ricorsione di un livello ma con b uguale 2 cioè fate ricorsione ogni volta su un problema che è esattamente la metà o circa la metà di quello di parte quindi il passo di ricorsione che faccio è questo scelgo il punto di mezzo vado a vedere il valore contenuto nella cera di mezzo e lo confronto con x se il valore centrato è maggiore di x butto via la metà di destra e riprendo il problema nella metà di sinistra se il valore è minore di x butto via la metà di sinistra e riprendo il problema nella metà di destra e quindi una serie di applicazioni dice ok, butto via la metà di destra e ho il vettore di sinistra prendo la sua metà a sua volta che cadrà su questa cella azzurra confronto 3 con x questa volta è più piccolo e allora dovrò buttare via la metà di sinistra e tenermi la metà di destra e così via qui ho un vettore di due elementi prendo la metà che è il primo e lo confronto con x in questo caso è minore o uguale è vero che è lui ma siamo un po' orvi siamo un po' tonti non lo vediamo qui c'è scritto se è maggiore o uguale è maggiore o uguale, sì e allora butto via la metà di destra mi resta un vettore di un elemento o è lui o non è lui ciclo di terminazione è quando un vettore di un elemento solo o è x che stavo cercando o non lo è e allora quel punto lì non ho più bisogno di fare ecossione quindi implementerei una cosa di questo genere dice prendo un vettore in cui devo cercare prendo l'elemento da cercare e poi si porta dietro questi a e b che sono il punto di partenza e il punto di arrivo all'interno del vettore da dove a dove l'ho cercato il vettore ogni volta l'ho fetto per efficienza non sto a costruire ogni volta un vettore nuovo ricopiandoci gli elementi dentro tengo sempre lo stesso vettore e mi segno in due variabili intere quali sono gli indici del punto di partenza e del punto di arrivo del pezzo di vettore all'interno del quale sto cercando chiaramente la prima chiamata a è uguale 0 e b è l'indice dell'ultimo elemento allora il passaggio di ricorsione che è quello più semplice dice prendiamo il punto di mezzo quindi a è l'indice di partenza in sinistro b è l'indice destro cerchiamo la media a più b diviso 2 l'indice intero quindi se fosse 7,5 sarà approssimato a 7 e questo c indica la cella in azzurro chiaro dei disegni precedenti v di c è il valore di quella cella e la confronto con x se è maggior di x ricorsione cioè butto via la metà destra del vettore ok diciamo cosa faccio non cosa butto cerco l'elemento x nella metà sinistra del vettore la metà sinistra del vettore inizia in a cioè dove iniziava già il vettore e termina in c cioè nel punto di mezzo vedete che io faccio una ricerca di forcina di x all'interno del vettore b ma solamente sul punto di arvallo che va da a c non da a b dall'estremo sinistro al punto medio altrimenti se v di c fosse minore butto via la metà sinistra dicevamo cioè in altri termini ricerco questo valore nella metà di destra a partire dall'elemento c più 1 fino ad arrivare al margine destra che è b occhio a sto più 1 perché la prima volta che ho implementato questo esercizio a preparare una lezione implementando senza copiarlo avevo dimenticato quel più 1 lì e sono entrato in una di quelle maledette ricorsioni infinite perché ad un certo punto era arrivato un vettore di due elementi e continuavo sempre a passarmi il vettore di due elementi perché essendo numeri interi non reali queste cose qua voi l'avete visto il primo anno di analisi quando facevate i problemi i teoremi ma lì erano numeri reali qui con i numeri interi bisogna fare attenzione dove si approssimo. ehm vediamolo solo funzionare allora io ho definito un metodo find che è di fatto un in giacolo lo chiamiamo un front end alla chiamata ricorsiva c'è una funzione non ricorsiva ma che mi dà un'interfaccia più comoda della funzione ricorsiva stesa c'erano quegli a e b che servono per la ricorsione ma il chiamante che ne sa il main quello deve sapere allora io definisco un'interfaccia più semplice in cui dico ok find in un vettore di una variabile che di fatto viene tradotto in un find vera e propria la funzione ricorsiva a cui il post a uguale 0 e b uguale all'indice dell'ultimo elemento cioè la lunghezza meno 1 e poi c'è la funzione ricorsiva vera e propria che è questa ho definito un vettore che contiene un po' di numeri itero per un po' di numeri interi per ciascun numero intero cerco se in v c'è questo numero il programma mi dirà che alcuni li ha trovati e altri non li ha trovati di fare prima di dare via all'invasione di questi che sono fuori qual è la complessità di questo algoritmo? domanda facile perché mi la getto lui l'altra settimana quante volte viene chiamata questa funzione? una volta su un vettore da 100 poi una volta su un vettore da 50 poi una volta su un vettore da 25 una volta... non due volte su un vettore da 50 è una sola volta quindi 100 poi una su 50 poi una su 25 quante volte in totale inizia con l logaritmi 1 di 2 di n su un vettore di 100 elementi la chiamo 7 volte su un vettore di 1000 elementi la chiamo 10 volte su un vettore di 100.000 elementi la chiamo 17 volte è un logaritmo, una complicità logaritmica log di n vuol dire che se ho appunto 10.000 elementi o 100.000 elementi dicevo ne guardo solamente 17 tutti gli altri non mi sanno solo perché il vettore è ordinato posso farlo allora log di n è il numero di chiamate è anche uguale alla complicità della funzione non è detto che il numero di chiamate sia uguale alla complicità lo è perché in questa funzione non c'è il ciclo e quindi il tempo di esecuzione della funzione è od1 quindi od1 per lo che n volte fa lo che m come tempo di esecuzione quindi abbiamo tutto abbiamo uno spesso che va dal calcolo del fattoriale ricorsivo che aveva una complicità o di n lineare tante chiamate quanto vale bene di bonacci che era è tantissimo due alle questo è loggerino di n alla faccia del teore mio che ci diceva che ci sono dei casi in cui la complicità n n è loggerino ma lo dobbiamo ancora incontrare quindi si può trovare questo caso è sicuramente molto vicino continuiamo domani